L'Italian Sounding, cioè quei prodotti che vengono realizzati all'estero con materie prime che nulla hanno a che fare con il bel paese, venduti con marchi che richiamano quelli italiani, vale ogni anno il doppio dell'export agroalimentare dell'Italia. Tutto questo senza contare anche i problemi vissuti all'interno dei confini nazionali con contraffazioni ed adulterazioni alimentari che erodono l'immagine di uno degli asset centrali del bel paese come l'agroalimentare con danni per l'occupazione e l'economia. Di questo e delle infiltrazioni della criminalità nell'intera filiera si occupa dal 2014 l'osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso e fondato da Coldiretti con la presidenza del comitato scientifico affidato al procuratore Giancarlo Caselli che da Salerno in occasione del convegno sulle frodi e made in Italy agroalimentari ha rilanciato l'allarme per le produzioni nostrane, per l'economia ma anche i pericoli per i consumatori. E' molto importante cercare di avere un cibo non soltanto buono, in Italia noi siamo bravi a fare del buon cibo ma anche un cibo sano e giusto il che significa assicurare l'osservanza delle regole, la legalità in ogni segmento della filiera agroalimentare. L'osservatorio col concorso naturalmente di altre forze, altri enti, altri soggetti sia pubblici che privati cercando di fare squadra si propone questo e risultati si comincia a vederne. In particolare ogni anno l'osservatorio produce un rapporto sulle agromafie, il prossimo lo presenteremo il 17 febbraio a Roma per fare l'analisi dettagliata della realtà in continua evoluzione purtroppo di questi fenomeni. L'attenzione deve riguardare tutti i consumatori dai bambini agli adulti perché nel mercato agroalimentare gli spazi dove le cose funzionano piuttosto bene ma ci sono spazi per le irregolarità, illegalità fino alle presenze mafiose sono occupati da questi, chiamiamoli così tanto per intenderci farabutti per guadagnare di più spendendo di meno usando materie meno genuine, meno utili per la salute, ecco rischiano di mettere a repentaglio la salute appunto a partire da quella dei bambini.